Però intanto c'è da guardare per la prossima stagione, perché hai perso il direttore tecnico, hai perso il team principal, hai già sostituito, ma comunque uno ha la prima esperienza. Non so cosa ne pensate voi, ma io non sono molto d'accordo con la mossa di Ginas. Sì, molto inaspettata e sono d'accordo un po' con Matteo. Penso che più siano quelli di Netflix e anche Leo Turrini, ragazzi, che ha costruito la sua immagine anche su questa cosa, su Steiner, che è diventato un tormentone. Per quello che riguarda il team Haas, sinceramente, con tutto il rispetto, penso che non cambi molto. Alla fine Steiner per noi, perché è italiano, anche se non sembrerebbe, però è italiano, e ha questa nomea che è diventata importante grazie a Netflix e, ripeto, grazie a Leo Turrini. Ma non credo che qualcuno si scandalizzi dal punto di vista del, ah, adesso cosa farà l'Haas? Ecco, quello volevo intendere. Ma secondo voi qual è il problema dell'Haas? Cioè, perché sono arrivati a fare loro, hanno detto mancanza di risultati, cioè, Haas cosa vuole fare? Banalmente, cosa si aspettava di fare? Haas non vuole più stare al decimo posto, deve cambiare, e a Ginas non va bene stare lì, giustamente. Allora serve una campagna acquisti, servono fondi per acquistare tecnici, migliorare le risorse tecniche, strumenti, cioè, non è che puoi andare avanti in Formula 1, cambiando il team principal, sperando che arrivi uno, ah, risolvo tutto io. Se non ci sono i soldi, non puoi andare avanti. Anche se c'è un limite di spesa, un minimo di budget per fare le cose devi averlo. Quando arrivò in Formula 1 non fece male all'inizio, diciamo che è stata una traiettoria, un lento scendere nel corso degli anni. Anche se quest'anno Hülkenberg era meno in qualifica, ha fatto delle buonissime cose, poi in gara si sono sempre persi. Sono su un parere un pochino discordante, forse, con gli altri, ma per me l'addio di Gunter Steiner è naturale conseguenza della performance dell'Haas. Perché l'Haas è arrivata in Formula 1 e hanno chiuso ottavi nel Mondiale Costruttori. L'anno successivo hanno chiuso ottavi nel Mondiale Costruttori. Poi hanno fatto un quinto posto e poi di nuovo ottavi, noni, decimi e sono morti in ultima casella, insomma. Le prestazioni migliori, se si va a vedere, per ogni stagione arrivavano sempre all'inizio, quindi molto spesso l'Haas si presentava in griglia con un concept positivo che andava poi a perdersi nel corso della stagione, è evidente che qualcosa non funziona. Ora, che siano i fondi che Geneas non mette nella scuderia o che siano i tecnici...